capodanno torna la mezzanotte in piazza botti e petardi a pesaro niente ordinanze di divieto sequestrati 176 mila addobbi natalizi potenzialmente pericolosi due anni di sanità regionale il bilancio di saltamartini nuove comunicazioni a pesaro arrivano i totem digitali ben ritrovati su rosini tv e ben ritrovati al nostro telegiornale di oggi mercoledì 28 dicembre apriamo questa edizione parlando di capodanno che dopo le restrizioni da pandemia quest'anno tornerà a festeggiarsi anche nelle piazze a cominciare da quella di pesaro dove alla mezzanotte si brinderà con concerti e dj set mancano poco più di 72 ore al 2023 e la piazza del popolo dopo due anni di festeggiamenti inattivi si sta preparando ad accogliere il capodanno di pesaro la città torna a far festa con la notte in musica l'iniziativa promossa dal comune e che dà appuntamento a sabato 31 dicembre dalle ore 23 per prepararsi al brindisi di auguri per il nuovo anno una serata speciale pronta ad abbracciare famiglie e giovani e che vedrà sul palco centrale il sound di quattro dj della città guidati da clarissa vicky vocalist dell'evento conclusivo del 2022 la scaletta della serata prevede la performance happy new year 2023 dei dual size per proseguire con la proposta world afro brasil di dj toni messina la festa andrà avanti con il sound di dj damien per concludersi con i ritmi house e dance di dj toni gandolfo tra i protagonisti dell'evento anche saxofonista solista daniele mancini un'eccellenza musicale made in pesaro e protagonista di collaborazioni con lucio dalla donatella rettore e i nomadi su tutti alle 23 59 l'intera piazza del popolo sarà coinvolta nel countdown che clarissa vicky farà partire e una volta entrati nel 2023 si tornerà a ballare sulle note di pesaro città creativa della musica unesco che accompagnerà pesaresi e visitatori nel nuovo anno e da pesaro andiamo a vedere che cosa accadrà la notte di capodanno a fano il capodanno si dividerà in tre dalla musica in piazza al musical a teatro passando per la comicità al cinema politeama vediamo tutte le informazioni in questo prossimo servizio di simone celli tre location facciamo quattro per una sola grande festa quella di capodanno per la quale fano offre davvero un'ampia scelta dalla musica in piazza 20 settembre a cenerentola in versione musical al teatro della fortuna grazie arancia verde blu la divisione della compagnia dell'arancia dedicata a bambini e ragazzi tutto questo senza dimenticare lo spettacolo comico del san costanzo show al cinema politeama e dopo il natale chiaramente arriva il capodanno quindi noi come proloco in collaborazione col comune stiamo cercando di organizzare al meglio l'evento che che si farà in piazza in piazza ci sarà l'orchestra dei best of per quanto riguarda l'animazione e anche i festeggiamenti che poi verranno fatti con tutti i cittadini che avranno piacere di partecipare con il classico brindisi di mezzanotte e con poi un po di ballo che verrà fatto chiaramente successivamente alla mezzanotte dai bg's a lady gaga passando per lucio battisti e patti bravo tra le oltre 120 canzoni in scaletta dei grandi artisti di ieri e di oggi non mancherà proprio nessuno percorreremo un viaggio musicale dagli anni 60 fino ai giorni nostri e toccheremo i più grandi successi italiani stranieri diciamo di questi tempi con una sorpresina in più che abbiamo preparato per il capodanno perché quest'anno in occasione della mezzanotte insomma faremo qualcosa di un pochino più movimentato comunque cercheremo di accontentare come è nostro solito dai più grandi ai più giovani e balleremo un po di più del solito noi come proloco cerchiamo sempre di dare al meglio cerchiamo di allestire e cercheremo di allestire al meglio la piazza per un discorso di sicurezza ma anche per dare un supporto chiaramente al gruppo che suonerà e che canterà nella piazza per tutti quanti e quindi cercheremo di dare uno spettacolo ottimale e speriamo che tutta la gente sia soddisfatta e sia contenta di quello che ci sarà fanno questo questo fine anno però oltre a questo chiaramente la città ha anche altre iniziative come ad esempio al teatro della fortuna con lo spettacolo cenerentola e al politeama con il san costanzo show il 31 dicembre 2022 siamo al politeama di fano con uno spettacolo che si chiama somare di battaglia quindi dalle 22 alle 23 30 ci sarà uno spettacolo divertente comico con tutti i personaggi del san costanzo show dove ripercorreremo i vari vari numeri vari sketch rivisitati rinfrescati ci sarà anche il musical più corto del mondo tra l'altro poi le 11 e mezzo 23 30 si va tutti fuori nel foyer anche in piazza in strada si festeggia brindisi a mezzanotte qualcuno del san costanzo show insieme a chi vorrà degli spettatori andrà in piazza a festeggiare insieme a tutta la cittadinanza insieme agli eventi che ci sono nella piazza di fano e poi si ritorna verso le mezzanotte e mezzo per in teatro per finire concludere e ricominciare lo spettacolo fino all'una e un quarto e dobbiamo riempire soprattutto perché bertulli è arrivata la bolletta dell'enel esatto e quindi aiutate bertulli com'è com'è la bolletta davide è alta è alta a proposito di bollette il caro energia non ha spento la pista di pattinaggio un divertimento a cui quest'anno tanti comuni hanno rinunciato per contenere le spese mentre fano può contare su una pista costo zero grazie a un accordo con il gestore dell'impianto c'è la possibilità di sfruttare che peraltro ci sarà anche per tutto il periodo fino all'otto di gennaio la pista di pattinaggio dove la gente potrà tranquillamente divertirsi magari aspettare la mezzanotte facendo una pattinata in amicizia e in allegria visto che comunque sta riscuotendo anche molto successo e come ogni capodanno torna puntuale a far discutere il rituale di botti e petardi e soprattutto le loro pesanti conseguenze sui nostri animali domestici a pesaro attualmente non sono previste ordinanze di divieto o limitazioni d'uso per le motivazioni che ci vengono argomentate in questo prossimo servizio tradizione discutibile o trascurabile per alcuni problema concreto per tanti altri anche nel capodanno 2023 la notte di san silvestro sarà accompagnata dal consueto rituale di botti e di petardi e come di consueto per i possessori di animali domestici cani e gatti in primis rappresenterà una dinamica dagli shock fisici ed emotivi molto complessi da gestire così come una dinamica che diventa spesso letale per fauna selvatica e volatili come ogni anno puntuale si moltiplica da più parti il no ai botti come ogni anno sarà però una dinamica più o meno intensa soltanto a seconda dei comportamenti individuali perché ad oggi 28 dicembre a pesaro l'esplosione dei petardi non sarà regolamentata da ordinanze che li vietino o ne circoscrivino l'utilizzo che sia centro storico o che siano i quartieri due anni fa ci fu un'ordinanza in tal senso emanata dall'assessorata alle attività economiche l'anno scorso non ci fu e difficilmente ci sarà nei prossimi giorni il problema non è solo capodanno ma sono i giorni primi giorni dopo anche per chi ha i cani magari a capodanno uno sta un pochino più attento mentre i giorni primi giorni dopo se si distrae un attimo è facile che il cane fugga è chiaro che la legge non ti dà armi in particolare perché nel momento in cui tu li puoi vendere poi è difficile che puoi vietare l'utilizzo i comuni cosa possono fare possono fare delle ordinanze come è stata fatta per la piazza del resto che era l'ordinanza soprattutto per motivi di sicurezza anche perché fare un'ordinanza per tutta la città oggettivamente io non amo i fuochi d'artificio non amo i petardi amo il mio cane però da amministratore devi pensare capire che c'è anche chi li ha comperati chi li ha venduti e la legge non è che ti dà degli strumenti anche se il comune dovesse fare un'ordinanza per vietare l'utilizzo dei fuochi d'artificio poi ci vorrebbero almeno 500 600 tra polizia locale carabinieri e polizia di stato per controllare il territorio è una delle classiche cose che sarebbe un prendersi in giro tra di noi no dici è vietato ma chi controlla come fai a controllare chi ha detto che ho esploso io il petardo non è stato un altro cerco di essere diciamo franco non non politico è una questione di educazione sostanzialmente grosso piccolo che sia il petardo per un animale è un problema perché nell'udito dei cani per esempio è molto superiore rispetto a quello di un umano quindi i rumori che noi apparentemente non sentiamo loro li sentono molto molto amplificati il mio può essere un invito quello di non utilizzarli o quantomeno non utilizzarli prima o dopo di capodanno insomma avere un po di discrezione il comune probabilmente metterà un'ordinanza per la piazza del popolo relativa alla sicurezza visto che ci sarà e si festeggerà il capodanno in piazza per il resto mi sembra difficile poter pensare di fare un'ordinanza per tutta la città sarebbe impossibile da controllare non ci sono ordinanze perché mancherebbe sia la coerenza sia i mezzi per garantirne rispetto e sanzioni la pensa però diversamente il consigliere comunale della lega andrea marchionni che già in passato si era battuto per regolamentare un problema troppo spesso sottostimato una normativa a livello nazionale sarebbe auspicabile ma non c'è le ordinanze comunali ci sono in vari comuni ad esempio grotta mare l'ha emanata il 7 dicembre e si tratta di farle in maniera precisa dal punto di vista legislativo e anche circoscritta cioè limitarli a certe giornate limitarle non so a certi tipi di di botti quindi di petardi non per essere precisi quindi fare in modo che non sia una ordinanza contro tutto e tutti perché effettivamente la vendita è libera cioè non è libera ma non è vietata con certe regole però una ordinanza che delimiti l'uso e dia dei divieti sicuramente aiuterebbe a diminuire percentualmente molto l'uso di questi botti nonché i controlli sulla vendita che chiaramente dovrebbero essere fatti sempre avere o non avere un'ordinanza può però fare la differenza sull'attutire le criticità e ridurre il problema in percentuale più o meno piccola secondo me frena anche chi effettivamente si diverte nel far esplodere i petardi perché voglio dire non tutti sono subito pronti diciamo a andare contro l'ordinanza non mi auguro che la maggioranza della popolazione sia propensa a rispettarle quindi effettivamente ci sarà sempre una percentuale che non rispetta perché magari dice sa che tanto non ci sarà un vigile in ogni quartiere in ogni angolo come succede sempre anche per i divieti di sosta però sicuramente è una buona percentuale non non andrebbe contro questa ordinanza sarebbe più attenta al rispetto certo vedendo l'amministrazione che invece non se ne preoccupa perché dovrebbero preoccuparsi nel loro ed ora cambiamo argomento la guardia di finanza di pesaro urbino ha intensificato l'attività di controlli sulla vendita di merce non in regola e soltanto in questo mese di dicembre hanno sequestrato ben 176 mila prodotti fra addobbi natalizi cancelleria e ferramenta risultati non conformi alla normativa vigente in quanto privi dell'obbligatoria indicazione della denominazione legale merciologica dell'indicazione del produttore o dell'importatore del paese di origine e dell'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono recare danno all'uomo e all'ambiente i venditori sono stati segnalati alla camera di commercio per la definizione delle sanzioni amministrative che prevedono multe fino a 25 mila e 800 euro il 2023 potrebbe essere l'anno buono per vedere concretamente cantierizzarsi l'incompiuta della galleria della guinza va in questa direzione lo stanziamento ufficializzato ieri sera da parte del governo meloni di 150 milioni di euro finalizzati all'adeguamento del corridoio stradale e 78 sul tratto fano grosseto che la giunta acquaroli ha ottenuto di realizzare a quattro corsie muovendo un importante passo contro l'isolamento infrastrutturale delle marche e per la giunta della regione marche si chiudono due anni molto complessi di gestione del della sanità sul territorio in questa prossima intervista l'assessore salta martini traccia un bilancio di quanto realizzato delle criticità affrontate ma soprattutto delle prospettive del 2023 io ogni mattina leggendo i giornali mi rendo conto delle lacune del servizio sanitario che sono lacune davvero enormi la grande soddisfazione comunque che noi abbiamo è stata noi abbiamo assunto questa responsabilità ottobre del 2020 un mese dopo abbiamo avviato lo screening di massa nei palazzetti il sistema il metodo israeliano due mesi dopo è partita la vaccinazione di massa nei palazzetti e quel metodo che noi abbiamo introdotto per primi in italia è stato poi esteso a tutte le altre regioni per mesi siamo stati la regione benchmark nel rapporto di efficienza tra vaccini che ci avevano consegnati e vaccini somministrati chi può immaginare chi poteva immaginare che la nostra regione con tutte le carenze potesse somministrare 3 milioni e 600 mila vaccini 1 milione e 2 per 3 dosi quindi quello abbiamo protetto la nostra popolazione chi voleva vaccinarsi e chi non voleva vaccinarsi con gli anticorpi monoclonali poi abbiamo approvato il piano il pnrr siamo stati una delle prime regioni abbiamo fatto la riforma della sanità ad agosto stiamo adesso predisponendo il piano socio sanitario naturalmente le questioni sono molto complicate perché la sanità e il bilancio della sanità risente di una criticità che non è uguale in altri paesi l'italia investe il 6,5 per cento prodotto interno lordo la germania per esempio ha due punti in più la francia un punto in più quindi noi investiamo molto poco in sanità basti pensare per esempio che la carenza dei medici che non proviene dalla nostra responsabilità perché noi abbiamo investito sulla formazione dei medici nel finanziamento delle borse di specializzazione con questa manovra di bilancio stanziamo 9 milioni di euro per acquistare tutta una serie di tecnologie per i medici di medicina generale scanner per fare la radiografia per fare le ecografie delle porte portatili per fare analisi del sangue quindi noi stiamo massicciamente investendo in realtà c'è da tener conto che purtroppo lo stato sociale così come noi l'abbiamo conosciuto si sta via via dimagrendo perché gli investimenti appunto sulla sanità sono investimenti che sono che stanno calando e quindi ritengo che bisogna rimette la sanità al centro perché la sanità è il presupposto di garantire la vita delle persone il sogno del 2023 è quello di riuscire con le risorse che abbiamo a disposizione a disposizione fare le economie di investire molto di più sulla spesa sanitaria dicevo la carenza dei medici per esempio può essere in parte mitigata dall'impiego degli infermieri sempre per fare una comparazione con l'estero in germania lavorano 13 infermieri ogni mille abitanti in italia quattro in francia sette infermieri per esempio alcuni medici potrebbero essere sgravati da prestazioni che potessero che possano essere eseguite dagli infermieri quindi è una politica che è mancata sulla sanità quindi non sono stati formati medici non sono stati formati infermieri e c'è un tetto di spesa al personale dopo due anni di covid se non ci siamo resi conto che la sanità rappresenta una priorità è questo il tema e torniamo ad occuparci di alcuni appuntamenti per la notte del 31 dicembre particolarmente affascinante quello di gradara dove il borgo medievale vedrà il centro storico animarsi ad ingresso libero con dj set e animazione di valter massa a partire dalle 21 e 30 dalle 15 30 del primo gennaio lo stesso centro storico ospiterà invece la banda di gradara che si esibirà nel tradizionale concerto di capodanno a pesaro invece la mattina del primo gennaio ci sarà la sedicesima edizione della corsa non competitiva giro di capodanno organizzata dalla società atletica centro storico banca di pesaro partecipazione libera ad una corsa che partirà da piazza del popolo alle ore 11 per poi percorrere 10 chilometri fra centro storico e mare con ritorno in piazza percorrere è però richiesto abbigliamento rosso o costume da babbo natale all'arrivo sarà presente un piccolo ristoro e come ogni anno sarà allestita una raccolta fondi in favore dell'aido di pesaro ed ora occupiamoci di un importante bando vinto da pesaro capitale della cultura 2024 che avrà la sua casa delle tecnologie emergenti lo annunciano il sindaco matteo ricci e l'assessore francesca frenquellucci confermando che il comune si è aggiudicato un bando da 11 milioni di euro del ministero delle imprese del made in italy per la realizzazione di un laboratorio tecnologico diffuso che coinvolgerà tutta la città si chiamerà cte square e vedrà la realizzazione di un innovativo progetto che sarà sviluppato in collaborazione con università degli studi di urbino e università politecnica delle marche tecnologie che saranno proiettate in funzione dello sviluppo culturale comunicativo ed economico del patrimonio cittadino e fra gli allestimenti in vista di pesaro capitale della cultura 2024 ci saranno anche cinque totem digitali interattivi e touchscreen che saranno installati nella prima metà di gennaio in centro storico a pesaro offrendo un importante salto di qualità alle comunicazioni istituzionali e ai servizi informativi per cittadini e turisti abbiamo pensato a più esigenze raggruppate in un'unica progettualità passando per un bando fatto nei mesi scorsi per realizzare all'interno della città cinque primi nuovi totem digitali e andranno a sostituire i classici parallelipipedi che a quel punto non saranno più installabili quelli insomma classici con le informazioni solite che siamo venuti a trovare che nel proliferare soprattutto in alcuni momenti davano anche un senso un po' di confusione quindi anche diciamo a ridurre l'effetto comunicativo invece che aumentarlo quando le cose sono troppe poi alla fine non si non si percepisce niente poi soprattutto diciamo impattavano un po' anche sulla bellezza del centro storico e quindi questi nuovi totem tre normali due anche interattivi in particolar modo quelli interattivi saranno in corrispondenza di piazza del popolo di piazza della lazarini davanti al teatro permetteranno di andare anche più a fondo nelle comunicazioni comunicazioni istituzionali comunicazioni culturali legate ovviamente agli assi di teatri biblioteche musei spettacoli comunicazioni turistiche gli eventi del giorno ma anche le comunicazioni che l'amministrazione da e può dare già a partire dal proprio portale quindi numeri utili l'indicazione rispetto alle attività economiche eccetera quindi sarà un palinsesto in parte realizzato direttamente dall'amministrazione anche attraverso i propri uffici a partire dall'ufficio stampa e dall'ufficio comunicazione ma sarà anche un'opportunità per tutti quelli che vorranno inserire le proprie comunicazioni nel resto del palinsesto delle 24 ore per far conoscere la propria attività l'evento l'iniziativa oltre che ovviamente tutte le comunicazioni che si potranno trovare è una sperimentazione in cui crediamo molto che va anche nella insegna direzione della capitale 24 in cui il totem stesso avrà gli stessi colori della capitale 24 quindi ci aiuterà a iniziare a veicolare un anno prima il messaggio di cui un anno prima perché l'installazione è prevista per il 9 gennaio del 2023 quindi tra poco più di 10 giorni. Ermanno Brambilla della Iconec di Parma che è l'azienda aggiudicatrice di questo bando del Comune di Pesaro che diciamo rappresenta un progetto che porta un salto di qualità importante a livello di informazioni sulla città. Assolutamente sì, questo progetto che nasce l'anno scorso e che è stato un progetto di costruzione condivisa con il Comune di Pesaro ha portato appunto alla installazione, porterà l'installazione di 5 macchine interattive che saranno ubicate nelle aree di accesso più importanti al centro storico e che darà la possibilità tanto al pubblico dei residenti quanto ai turisti che visiteranno la città di Pesaro di avere tutta una serie di comunicazioni che andranno sia dalla parte di comunicazione istituzionale a quella diciamo più prettamente commerciale con le indicazioni delle attività del territorio per muovere il mercato e comunque per dare comunque un senso di eterogeneità all'informazione che viene data da queste macchine. È un flusso informativo diciamo anche a doppio senso nel senso che il turista, il visitatore riceve degli input ma li riceve anche lo stesso Comune ad esempio sulla indagine dei flussi di transito davanti a questi totem rappresentano una novità digitale importante. È corretto, le macchine che verranno installate, i totem che verranno installate saranno dotate di sistemi di rilevamento biometrico, ci sarà la possibilità da parte delle macchine di rilevare i flussi di traffico di passaggio pedonale davanti appunto ai totem e raccoglierà tutta una serie di dati e di variabili importanti per un'analisi dei dati e per capire i flussi di traffico pedonale all'interno delle aree in funzione per esempio di determinati eventi o manifestazioni che sono organizzati dalla pubblica amministrazione. Eccoci arrivati alla fine del nostro telegiornale ma questa sera vi consigliamo di restare collegati su Rossini TV perché a partire dalle 21.20 vi vedrete due belle puntate del nostro Green Tour, una puntata dedicata a Frontino e una puntata dedicata ad Apecchio, quindi un bellissimo viaggio, immagini con il drone, interviste, prodotti tipici ed enogastronomia nella nostra bellissima provincia, quindi non perdetevi l'appuntamento alle 21.20. Domani invece vi aspetto puntuali alle 7.20 in diretta sul canale 80 e sulla nostra pagina Facebook con la nostra rassegna stampa. E vi ricordiamo anche che insieme a Canestro si fermerà per qualche puntata e quindi domani non ci sarà la consueta puntata, torneremo in diretta giovedì 12 gennaio sempre insieme al nostro Marco Cadeddu. E allora adesso vediamo come sarà il tempo per i prossimi giorni, io vi auguro una buona serata.